Arriva Marchestoria a Cartoceto per il secondo anno consecutivo, anche quest'anno abbiamo partecipato con un altro tema diverso da quello dell'anno scorso, tra l'altro siamo arrivati tra i primi dieci progetti marchigiani per cui abbiamo beneficiato anche di tutta una serie di azioni comunicative nazionali e quest'anno per l'appunto abbiamo partecipato con questo tema del tutto nuovo, cioè con questo legame tra il piccolo borgo marchigiano, nel nostro caso di Cartoceto, e la serenissima, la città di Venezia. Queste due realtà sono legate dalla nostra straordinaria eccellenza olivicola unica dopo le aria in tutte le marche, la DOP Cartoceto per l'appunto che oggi conosciamo come eccellenza a tavola ma nel medioevo quando la città di Fano e il suo contado all'interno del quale ovviamente era ricompreso Cartoceto erano particolarmente evocati alla produzione di olive e quindi ovviamente anche di olio, prestavano per così dire l'olio alla città di Venezia sia per illuminare tutta Piazza San Marco, quella che oggi è Piazza San Marco, sia tutti gli appartamenti e le stanze intime del DOGE. In cambio, Fano in modo particolare riceveva protezione appunto dalla città di Venezia, dalle rispettive invece città vicine di Peso di Senigallia. Quindi questo è un po' l'aneddoto dal quale si sviluppa il tema e il percorso di Marche Storia di quest'anno che Cartoceto ha presentato. Aneddotica che poi si traduce in spettacoli ad hoc proprio per celebrarla. Sì, partiamo da questo fatto storico come dicevo per sviluppare poi lo spettacolo principale che sarà in tutte e tre giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 alle 19.30 nella piccola frazioncina di Ripalta di Cartoceto, anch'essa particolarmente evocata alla produzione olivicola. Uno spettacolo principale che parte da questo fatto storico ma poi si sviluppa attraverso il teatro popolare, diciamo così. E anche aggiungerei con tutta una serie di commistioni di linguaggi completamente diversi dalla musica altrettanto popolare ma anche al cantautorato italiano per uno spettacolo sicuramente molto molto divertente nonostante si parta da un fatto storico di lunga data. Devo dire un ricco programma, uno spettacolo come dicevo adesso assolutamente divertente e dinamico che porterà il Doge appunto dalla città di Venezia a percorrere tutte le strade per poi arrivare a Cartoceto e quindi incontrare i protagonisti di questo scambio commerciale. E il Cartoceto accompagna tutto questo anche con tante iniziative collaterali? Tante altre iniziative collaterali che si possono trovare sul sito di Marche Storie piuttosto che sui social di Cartoceto Turismo che arricchiscono il programma della Tre Giorni tra itinerari culturali, turistici, naturalistici, mostre, talk show e ovviamente visto che stiamo parlando di Cartoceto dell'eccellenza olivicola non possono mancare anche i momenti legati all'enogastronomia e all'agroalimentare di qualità e non da ultimo una chicca che impreziosisce il programma della Tre Giorni è la presentazione di un profumo che abbiamo fatto produrre da un'azienda con l'essenza dell'olio DOP e cartoceto devo dire molto molto piacevole, erbaceo, fresco e quindi l'invito è ovviamente anche a partecipare per assaporare e non in questo caso assaggiare, annusare questo profumo che abbiamo voluto produrre appunto per l'iniziativa di Marche Storie di quest'anno.